Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi colgo l'occasione del lancio di una nuovissima maschera Puro Bio per fare anche un ripasso di quelle precedenti. Nella nostra routine quotidiana non può mancare la maschera viso, un concentrato di idratazione e nutrimento per la nostra pelle, che la rende bella giorno dopo giorno. Le maschere viso sono differenti dalle creme per via della loro formulazione. In particolare la concentrazione di attivi può superare anche di 2-3 volte quella delle normali creme. Per questo l'uso delle maschere è da limitare a 2-3 volte alla settimana. Le nostre maschere viso sono realizzate con ingredienti di origine naturale e si prestano a diverse tipologie di pelle. Oggi ti presento la nostra ultima creazione, una formula preziosa per un effetto luminoso unico, come quello di un diamante. La maschera Diamond è la prima maschera con formula in gel Puro Bio for Skin. E' pensata per quelle donne che hanno perso la luce naturale del loro viso. Si chiama Diamond perché contiene al suo interno una perla naturale altamente riflettente che farà scintillare la vostra pelle proprio come un diamante. E' una maschera divertente, semplice da utilizzare, che dona freschezza e luminosità. Contiene acido ialuronico dal potere idratante e limone dalla proprietà riequilibrante. E' pronta all'uso e il tubo contiene il necessario per 3 applicazioni e adatta a tutti i tipi di pelle. Per farla bastano 5 minuti di posa, dopodiché rimuovete l'eccesso con l'ausilio di una spugnetta o del panno konjac. Risciacquete abbondantemente dopo aver rimosso l'eccesso di prodotto. Ora ricordiamo insieme tutte le maschere Puro Bio for Skin, quelle in crema, in alginato e in cellulosa. Le nostre maschere in crema sono Brenda e Miranda, rispettivamente per pelle secca e per pelle grassa. Brenda ha una texture vellutata e corposa, ideale per l'idratazione della pelle secca. Il contenuto di acido ialuronico stimola l'elasticità della pelle e rigenera la cute, per una pelle più morbida e idratata. Miranda è indicata per pelle mista e grassa. Contiene estratti naturali di tè verde, zenzero e liquirizia che restringono i pori e purificano la pelle. Anche Miranda contiene acido ialuronico per garantire l'idratazione anche alla pelle grassa. Passiamo ora alle maschere in alginato. Sono in polvere e vanno miscelate con l'acqua e poi applicate sul viso. Dopo una posa di 10 minuti vanno rimosse con un effetto peel off. Olivia è ideale per la pelle grassa. Il contenuto è di alginati, purifica la pelle e riduce l'eccesso di sebo. I pori sono visibilmente ridotti e la grana della pelle è liscia e compatta. Kelly è una frizzante maschera per pelle secca, con acido ialuronico ed estratti di mandorla e olio d'oliva. In 10 minuti rivitalizza la pelle e dona un effetto glow che dura tutta la giornata. Ed infine le nostre maschere in tessuto, comode e semplici da utilizzare. Claire ed Emily. La maschera Claire ha un'azione stringente e purificante, perfetta per la pelle impura e grassa. Aiuta a controllare la produzione di sebo e libera i pori per una pelle senza imperfezioni. Emily è un toccasana per la pelle secca. Con la sua azione emolliente ed elasticizzante, rende la pelle vellutata e setosa. Sia Claire che Emily sono disponibili in tre versioni. Good Morning per rivitalizzare i tessuti e idratare la pelle sin dal mattino. Carrier Girl per le donne sempre di corsa e per un'idratazione dal potere antipollution. Relax & Fun con un'azione elasticizzante, ideale per concedersi un momento di relax a fine giornata. In info box trovate tutte le informazioni utili. Spero che la nostra nuova maschera Diamond vi piaccia, soprattutto perché sarà in edizione limitata. Nel cofanetto c'è la splendida fascia che ci avete tanto richiesto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!